L'interazione uomo-macchina come elemento chiave per l'industria 4.0. Di questo e del modo in cui progettarla, anche nell'ottica di sviluppare macchine agricole sempre più all'avanguardia, si è parlato a Modena in un doppio evento organizzato dall'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia, prima con un workshop tecnico presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e poi nella sede modenese di Sienaici Industrial in Viale delle Nazioni. Ospite principale, il professore Donald Day Norman, direttore del Design Lab dell'Università della California, vero e proprio guro della riflessione sull'usabilità degli oggetti e dei macchinari, con il quale abbiamo affrontato il tema della User Experience Analysis, come elemento cruciale nella progettazione di nuovi strumenti di interazione tra noi e le macchine. Prima di tutto, ha spiegato Norman ad Ascanews, è importante che le persone che li usano capiscano bene ciò che possono e non possono fare, cosa fare quando ci sono problemi, cosa quando tutto va bene, ogni cosa legata al modo in cui noi capiamo la macchina, la sua bellezza e il suo potere e di conseguenza come la usiamo. Io credo che la User Experience sia tutto. Un concetto questo che però è di recente ricezione, come ci ha confermato anche Margherita Pieruzzini, professora associata alla Unimore e referente del laboratorio Xilab. L'ingegneria storicamente è sempre stata molto attenta al studio delle prestazioni, delle funzioni, quindi tutta la parte di sviluppo tecnico e non soffermandosi probabilmente a sufficienza su quella che è l'esperienza dell'utente. Quindi non si può oggi sviluppare sistemi, prodotti, servizi, interfacce senza considerare quello che sarà l'approccio della persona finale che userà questo sistema, questo prodotto e questo servizio. Particolare attenzione viene riservata al tema della progettazione dei sistemi di interazione tra gli esseri umani e le macchine, anche di C&H Industrial, con specifica attenzione agli aspetti dei tool virtuali di simulazione e delle ergonomics analysis in riferimento alle macchine agricole. Claudia Campanella, manager ergonomics and H&M di C&H Industrial, ha tenuto la principale relazione del secondo evento della giornata. In ergonomia noi studiamo molto l'interazione tra l'uomo e la macchina. L'uomo proprio nel senso più lato del termine, perché l'uomo può essere sia l'utente della macchina, quindi la persona che guida e lavora, usa l'aratro, fa diverse lavorazioni e quindi noi studiamo tutti i suoi comandi, la sua visibilità, il modo di operare che sia più confortevole possibile, però l'uomo è anche l'uomo della fabbrica che monta la macchina. Quindi noi studiamo tramite particolari indici di comfort anche le posture degli operai che andranno a fare dei montaggi in modo che siano il più comodi possibili e quindi i montaggi abbiano un alto livello di qualità. La ricerca delle migliorie comunque non si ferma mai e l'elemento decisivo in questo senso resta la possibilità di integrare al meglio uomini e macchinari in un'ottica di sviluppo tecnologico, certamente, ma con anche elementi in più.